Non si fermano i fratelli Arovetto e John Lombardi, i due erpini il 7 settembre saranno di scena a Roma. Al torneo di football della capitale prenderanno parte anche tre ex calciatori del campionato italiano. Su tutti Aldair, detto Pluto, ex campione del mondo con il Brasile 94 e difensore della Roma di Zeman. Con lui anche Amantino Manzini con un passato ad Inter, Roma e Milan e Max Tonetto. Esterno con un lungo trascorso in massima serie. Dal 31 ottobre al 10 novembre i due fratelli di Castelvetere saranno di scena in Portogallo, mentre successivamente ci saranno altri due importanti tornei internazionali. In Spagna e in Russia un lungo tour iniziato con la tappa di Stoccolma, dove i Lombardi hanno brillato portando in alto il nome dell'Irpinia. Una scuola quella di football dei due fratelli erpini che sta crescendo e non poco e che nelle prossime settimane potrebbe vedere anche nuovi iscritti.